Ciao a tutti ragazzi, riaccomi qua, sono Megateaker, quest'oggi davanti a me ho un controller della Razer, ho un controller per l'Xbox ed ho un controller a cui dovrete stare molto molto attenti in fase di acquisto ebbene sì, dopo il putiferio scoppiato nel 2018 con l'uscita appunto di un Razer, anzi di due, il Razer Raiju Ultimate Entertainment per PlayStation 4 se mi seguite da tempo saprete che quel controller ha avuto grossi problemi nel 2018, in realtà poi anche a seguire ma nel 2018 era proprio quasi certo che se aveste comprato un controller della Razer appunto avreste avuto dei problemi da lì era nato il famoso detto, state attenti, se volete comprare un Razer, comprate dei Razer che abbiano dei numeri seriali Palermo-Modena-PM-2019 ossia traducendolo appunto in sigla del controller dovevate prendere un PM-19 stava proprio a indicare il fatto che quel controller era stato costruito nel 2019 e non era più afflitto dai problemi che invece affliggevano in gran quantità i prodotti costruiti nel 2018 PM-18 ebbene sì, oggi triste di dover di nuovo dire, state all'occhio ai PM-20 di questo bellissimo o meglio, quello lo andremo a vedere in fase di recensione Razer Wolverine V2 in questo breve video non mi soffermerò sulle qualità o i pregi e i difetti del controller ma appunto volevo mettervi in guardia che dal PM-20 ossia PM Costruzione 2020 al PM-21 c'è una bella e sostanziale differenza venite un attimo con me, vi faccio vedere quello che registravo un po' di mesi fa questo appunto il primo controller che ho comprato il numero serial vi faccio vedere sulla scatola termina per 22 74 015 22 numero seriale che come potete vedere è lo stesso del controller e quindi questo sarà quello che domani partirà alla volta di Razer per trovare una soluzione vi faccio vedere che appunto il problema secondo me è completamente progettuale ossia queste alette che vedete all'interno tra un tasto e l'altro vanno a cozzare una con l'altra vedete che premere un tasto di fatto impedisce all'altro di muoversi liberamente fino agli estremi dove appunto con una pressione e uno spostamento verso il basso il tasto rimarrà bloccato stessa cosa ovviamente dall'altra parte perché i tasti sono fatti esattamente uguali quindi ripeto secondo me non si potrà correggere questo problema almeno che non mi arrivi un controller con i tasti completamente diversi ebbene come avrete visto il problema era piuttosto serio questo video magari vi serve anche un po' da unboxing qua dentro troviamo il controller il cavo che è attaccato al controller il solito libricino della Razer con i suoi begli adesivetti nulla più ma andiamo a vedere il nostro controller in cosa è cambiato e perché vi dico che se volete acquistarlo dovete assolutamente prendere un 2021 avete visto prima i tasti come si incastravano ebbene sì adesso io spero di riuscire a farvelo vedere qui in telecamera all'interno qui dove abbiamo i trigger come vedete è stato cambiata l'architettura la forma del tasto hanno eliminato quelle palette che io denunciavo andare in conflitto una con l'altra e di fatto quindi si è andata a risolvere il problema del bloccaggio del trigger inferiore raccontandovi velocemente la mia esperienza io ho dovuto cambiare tre controller come vedete dai numeri seriali io ne ricevetti poi uno che aveva lo stesso identico problema infatti era un prodotto costruito nel 2020 quando ormai avevo perso le speranze mi è arrivato il terzo controller vi rifaccio vedere che si tratta di un controller PM21 ossia costruzione 2021 e come vi dicevo il problema è svanito finalmente è stato messo mano alla forma di questo tasto e il conflitto del tutto risolto come vi dicevo questa non è una recensione del controller ve lo porterò come recensione non mi voglio sbilanciare se non dirvi che secondo me è stato un bene che Razer abbia messo mano per andare a correggere un problema progettuale così grosso e grossolano perché appunto il controller ha il suo perché spero di esservi stati utili quindi mi raccomando quando li comprerete usati o nuovi sulla scatola avrete la possibilità di vedere se è un PM 2020 e nel caso saprete a cosa potreste andare incontro se vi è piaciuto il video lasciatemi un like registratevi al canale accendete la campanella perché io vi porterò un sacco di bei contenuti nelle prossime settimane vi ricordo anche di passare da Xbox Italia il gruppo Facebook dove troverete una grossa community ad accogliervi e parlare della vostra console Xbox ancora un saluto qua ai Megaticker ci vediamo alla prossima e ciao Ciao